Grasso e Boldrini scontra a sinistra perché voi sapete a sinistra del PD si sta costruendo una nuova ipotesi, un nuovo progetto, una nuova proposta e ci sarebbe un derby, una lotta per la leadership fra Grasso e Boldrini, scontra a sinistra sui due presidenti, Orlando informa che sono passati all'opposizione, i due dicono che siamo imparziali, Orlando, ministro della giustizia, voi siete il secondo e terza carica dello Stato quindi non potete passare così direttamente all'opposizione, ma i due dicono che siamo imparziali anche perché anche il PD si è un po' snaturato in questi ultimi tempi. Allora su queste storie della sinistra, di quello che sta avvenendo, del dibattito e poi in fondo andiamo verso le elezioni, sentiamoci la prima intervista che è del deputato Ettore Rosato del PD che ha anche dato il nome alla Rosatellum, questa straordinaria invenzione elettorale del PD. Coalizione larga, di centro-sinistra, che si occupi dei problemi degli italiani, un foglio bianco, quello da scrivere insieme sul programma, partendo dalle cose che funzionano, un pil che cresce, un'economia che si riprende, posti di lavoro che ripartono. Bene, questo è molto ottimista, sintetico e lapidario, il rosato del Rosatellum, sentiamoci anche Elisa Simoni del Movimento Democratico e Progressista. Renzi non deve convincere articolo 1, deve convincere gli italiani, quei 12 milioni che non si curano più, quelli precari che il Job Act ha lasciato da soli. Solo in questo modo saremo credibili. Un'alchimia elettorale per spartirsi con leggi andrebbe solo nella direzione di spostare i voti all'astensionismo o al Movimento 5 Stelle. Mi pare che insomma la Simoni non glielo manda a dire a Renzi, ma credo che questo dibattito durera a lungo, credo anche che se tanto mi dà tanto alla fine la coalizione di centro-sinistra si farà ob torto collo, perché senza le coalizioni i collegi uninominali saltano. Grazie a tutti.